Benvenuti alla Rassegna Stampa, oggi è mercoledì 10 marzo 2021, questa è Fanno TV, canale 17 nel digitale terrestre visibile in tutta la regione Marche e come tutte le mattine partiamo con il santo, il tempo e poi diamo uno sguardo e commenteremo i giornali San Macario di Gerusalemme, il sole è sorto alle 6.32, tramonterà alle 18 e 09 Oggi avremo qualche pioggia in mattinata, brevi rovesci nel settore anconetano, per il resto c'è poco da dire Per domani, giovedì, cielo sereno con gelate durante le ore notturne, diffuse nei fondovalle Venerdì 12 ancora pioggia, ma limitatamente all'Appennino, settentrionale e meridionale E poi ancora giornate decisamente tranquille insomma Allora andiamo invece a vedere, oggi siamo in zona rossa, da oggi la provincia di Piesa Urbino e quella di Fermo Sono in zona rossa, le province e dunque resta solo Ascoli Piceno in zona arancione I titoli del Corriere Adriatico, il resto del Carlino, ovviamente edizioni in particolare di Pesaro E questo è il titolo del Corriere che riguarda la scuola, la didattica a distanza, DAD L'incubo delle famiglie, da oggi la zona rossa con la chiusura di tutte le scuole L'opposizione chiede di sospendere le rette a marzo negli asili Per quanto riguarda le vaccinazioni c'è questa nuova sede, la sede BIS Ma manca ancora l'autorizzazione dell'Asur I ricoveri nelle Marche, i ricoveri Marche Nord si riorganizza Intanto il Corriere Adriatico è riuscito a entrare nel bunker dell'Inca d'Ancona Tra i freezer a meno 80 gradi, a 80 gradi sotto zero Dove vengono conservati appunto i vaccini della Pfizer-BioNTech Notti in bianco, aspettando i vaccini, questo è il titolo della fotonotizia Poi invece le altre in breve, sfratta il fratello a Pesaro che la minaccia ed è condannato A Civitanova chiede sanitari ma l'ospedale è carico di positivi L'ospedale è quello di Urbino, giù le saracinesche Ora l'abbigliamento confida nell'online Poi qui ancora sempre dalla prima del Corriere di Taglio Basso Da Fano, assilla l'ex figlio Assilla l'ex e il figlio della donna, cinquantenne finisce in carcere Lo sport, Tireno Adriatico, oggi si parte Domenica i corridori arriveranno anche nelle Marche Pesaro, il Carlino, chiudiamo ma speriamo per poco Oggi scatta la zona rossa, giù le saracinesche dei negozi Ecco quelli che possono restare aperti Ma la fotonotizia è per il Covid a un anno di distanza Come oggi, insomma, si partiva con le restrizioni E dunque siamo un po' da capo Viaggio nell'ospedale rivoluzionato dove il virus è tornato a mordere Un anno dopo, stessa battaglia Poi sui vaccini, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro Attiva la palestra della Celletta ma senza l'ok dell'Asur E poi la storia da Cartoceto dove dall'albero spunta un ordigno Ancora centropagina, didattica a distanza, figli senza scuola, famiglie in difficoltà A pochi infatti il congedo parentale 3.000 tamponi per società sportive e palestre Continua dunque lo screening del Comune di Pesaro E un ultimo assalto dal parrucchiere Da noi però dicono c'è sicurezza E spostamenti, sport e attività Tutte le regole e i divieti di questo lockdown Che è già iniziato a mezzanotte e un minuto A Pesaro lo sport, ipotesi, la VL lavora per il ritorno E poi estorceva 200 euro al mese La nonna, Fano, donna vittima della nipote, tossico dipendente La polizia ha disposto l'allontanamento Andiamo a vedere il Carlino di Ancona Torrette, torrette sette ore in un'ambulanza Pronto soccorso chiuso e poi riaperto Mezzi dirottati fuori provincia Snervanti le attese per i malati E poi la tragica, la triste notizia di quest'uomo Che vedete nella fotografia Giancarlo Bartolini Nel 2015 fu rapito al Museo del Bardo Quindi sfuggì all'Isis Adesso purtroppo è morto di virus Ma se da una parte c'è chi non ce l'ha fatta Dall'altra una coppia di 90 anni sconfigge il Covid E torna a casa dicendo è finito un incubo Andiamo adesso invece a vedere le pagine interne Allora cominciamo dalle dichiarazioni del governatore delle Marche Francesco Acquaroli In questo articolo di Maria Teresa Bianciardi Dal Corriere Adriatico Che cosa dice Acquaroli? Parla di una situazione che stiamo monitorando di giorno in giorno La provincia di Ancona è in rosso dal 3 marzo con dati preoccupanti Al momento sembra avere raggiunto una stabilizzazione E dunque la speranza che i contagi inizino a scendere Se così fosse Almeno è il ragionamento del governatore Restando in arancione Si potrebbe anche pensare di togliere le restrizioni Ed allentare i divieti Tranne che per le scuole Quindi i divieti per le scuole Dice il governatore Acquaroli Resteranno Soprattutto perché resteranno Perché abbiamo visto che con la variante inglese Che utilizza proprio i giovani Per diffondersi con più velocità Le scuole sono Sono la fonte primaria di contagio Appunto con questa variante inglese Ora adesso abbiamo 4 province Su 5 in zona rossa Dice Acquaroli Credo che potremmo essere confermate in zona arancione Anche la prossima settimana Adesso dire che le marche sono in zona arancione Un po' così Un eufemismo Nel senso che c'è solo Quella di Ascoli Quel pezzettino in fondo Che si salva Tra virgolette Zone rosse però Più rigide Questo è l'andazzo Questo è quello che chiede Il comitato tecnico scientifico Al governo Draghi E quindi può essere che Oltre all'ordinanza regionale A inserirsi In un inasprimento Delle regole Ci sia appunto il governo Arrivi il governo Zone rosse più rigide Addirittura il modello codogno Dove ricorderete All'inizio di tutta questa pandemia Ci furono Tanti contagi Tanti morti E il modello codogno È un modello in cui Praticamente nessuno Poteva uscire di casa Questo è quello che Si chiede Questo è quello che chiedono Quelli del comitato Tecnico scientifico E anche chiusure Nel fine settimana Soprattutto nei centri commerciali Che spesso vengono Presi d'assalto Per la passeggiatina Tra le corsie Anche senza motivazioni Senza comprare nulla Intanto sul Carlino A pagina 3 Weekend blindati E più divieti in zona gialla Vedete gli scienziati Dettano la linea dura Il governo Tanto Draghi Boccia il coprifuoco Anticipato Quindi ieri dicevamo Che c'era questa possibilità Che si potesse Anticipare Dalle 22 Alle 20 Di qualche ora Insomma Ma a quanto pare Draghi Non Non ne vuole sapere Quindi il coprifuoco Dovrebbe rimanere Dalle 22 Alle 5 Del mattino E poi ha escluso Anche un lockdown Quindi una chiusura Generalizzata Così come avvenne Invece Di questi tempi Un anno fa Da sabato Però Quasi tutta Italia Rischia di diventare Rossa E allora Per quanto riguarda Le direttive Del comitato Le direttive del comitato Le possiamo andare a vedere qui Un attimo Sono Uno Le restrizioni Massimo Massime Per le zone rosse Tant'è che la zona rossa Oggi Dovrebbe scattare In automatico Appena si supera La soglia Dei 250 Casi Su 100 mila Abitanti In sette giorni Quindi Non c'è bisogno Che arriva il governo Insomma È in automatico La strada giusta Resta il sistema A fasce E gradualità Ma tutte le regole Per ogni livello Vanno Inasprite Chiede sempre Il comitato Il comitato scientifico Poi Questo Anche qui È un problema Ma sarebbe davvero La soluzione Penso alla Cina In Cina Hanno fatto così E in Cina Hanno sempre Tenuto Tutto sotto Controllo Almeno Così dicono Potenziare il sequenziamento Ovvero Tornare al tracciamento Potenziare il sequenziamento Per l'identificazione Sempre più veloce E puntuale Delle varianti Noi siamo partiti bene A settembre Ottobre Perché erano pochi I casi Poi man mano Che andavano Ad aumentare Chiaramente Si è perso il tracciamento Quindi A un certo punto Erano talmente tanti O troppi I contagiati Che non si riusciva più A risalire A ritroso Tutti i possibili contatti E quindi avvisarli Di mettersi in quarantena Questo non è stato possibile Però questo Sarebbe davvero La soluzione La soluzione migliore Tant'è che Mi sono segnato Che fine ha fatto L'app Com'è che si chiamava Riccardo te lo ricordi Questa Immuni Ecco mi sfuggiva adesso il nome Immuni L'app Immuni Praticamente Non se l'è filata più nessuno Non è servita nulla Immagino anche lì Saranno stati spesi Tanti soldi Però Era È nata male Ed è finita peggio Andiamo invece Sulla pagina Di nuovo Del Corriere Adriatico L'impennata dei ricoveri Nelle terapie intensive Più 43% Da inizio marzo Tra ospedali Ed SRSA Assistiti Più di mille malati Affetti da coronavirus Tre ondate Tre ondate Di pazienti Covid Si sono riversate Sugli ospedali marchigiani Da quando Con l'arrivo dell'autunno Si è capito Che l'epidemia Avrebbe ancora Dato molti Grattacapi E provocato Purtroppo Tante vittime Ieri Altre 13 Intanto Guardate questa fotografia Che è impressionante Siamo sul Carlino Di Ancona Malati in ambulanza Tutta la notte Pronto soccorso Chiuso A Torrette Mezzi in fila E in pellegrinaggio Fuori provincia Una ottantenne Residente Vicino al nosocomio Andata in arresto Cardiaco In attesa Dei soccorritori Che stavano rientrando In città Da Civitanova Il pronto soccorso Di Torrette Però Scrive Pierfrancesco Curzi E questa è La buona notizia Il pronto soccorso Di Torrette Riapre Ha riaperto I battenti E torna dunque Ad accogliere I casi covid Dopo le ore di chiusura Nella notte Tra lunedì E ieri Subito però Riparte Il caos ambulanze Un equipaggio Della Croce Rossa Di Loreto Sempre con paziente A bordo Atteso quasi sette ore Prima di potersene Andare E dire che molti Sono anche ricoverati Qua all'ospedale San Salvatore Di Pesaro A Marche Nord Dove Come vedremo Insomma Anche lì Si è rivoluzionato Un po' tutto Sono aumentati Comunque i posti Letto di terapia intensiva Quindi stiamo ospitando Tante persone Del sud Delle Marche Così come era avvenuto Già all'inizio Di questa Seconda ondata Ora parliamo invece Dei vaccini L'Italia produrrà Sputnik Da luglio Ora capite Siamo ancora a marzo Campacavallo Ma l'Unione Europea È scettica Contro Mosca Scontro con Mosca Quindi continuiamo ancora Con questi balletti Che forse sono più Ideologici Che altro Ma comunque Bruxelles Avverte Roulette russa Senza il vaglio Degli scienziati La replica Si scusino Accordo per produrre 10 milioni di dosi In Brianza Dunque L'Italia Scrive Chiara Pozzati Sulle pagine nazionali Del carlino Di questa mattina L'Italia inaugura Lo Sputnik A partire da giugno Sarà la prima In Europa A produrlo In casa Obiettivo Raggiungere quota 10 milioni di dosi Entro fine 2021 Tra l'altro Lo Sputnik Leggevo Adesso È importante Anzi Facilita un po' Perché Non ha bisogno Del richiamo E quindi Ne basta uno Uno studio Sul Siero Lo studio Dello Spallanzane Di Roma Insomma Non è l'ultimo Degli ospedali Uno studio Sul Siero Ha confermato Produzione di anticorpi Nel 100% Del 100% Degli immunizzati E la prestigiosa Rivista medica Lancet Ha scritto Che le fiale russe Sono efficaci Anche contro Le varianti E allora Mentre tutti questi Dicono E fanno i complimenti Perché Ritengono Che lo Sputnik Sia Appunto Un vaccino Che funziona Che funziona Anche bene L'Unione Europea Che già di danni Ne ha fatti Tantissimi Con i suoi ritardi E ancora Ancora sta qui A dire Funzionerà Siamo sceci Serve il vaglio Degli scienziati Continuate a discutere Continuate a parlare Tranquilli Senza problemi Pensate che I russi Diano ai suoi cittadini Milioni di cittadini Un vaccino Che non funziona O facciano Degli esperimenti Così Quindi Insomma Intanto Il via libera Arriva anche Da Bassetti Che Ha 51 anni Dice Dobbiamo correre L'EMA Può essere Aggirata E Quindi Insomma Il direttore Della clinica Di malattie infettive Del San Matteo Di Giovana Dice Abbiamo il produttore Dello Sputnik In Italia Non abbiamo Lo che è Dell'EMA Cosa se ne esce Come se ne esce Le soluzioni Dice Bassetti Sono due O l'EMA Si dà Una mossa È forse il caso E accelera Le procedure Perché Non siamo più In tempo di pace Ma di guerra Quello che si faceva Prima in un mese Adesso si deve fare In due giorni E qual è l'alternativa? Una strada c'è Passare dalla legge 648 del 96 Che dà modo Di utilizzare In Italia Farmaci Non ancora approvati In caso di urgenza O necessità Sputnik La convince Questa è la domanda La risposta Di Bassetti È I dati pubblicati Mi sembrano validi Credo abbia Tante caratteristiche Per essere Un buon vaccino Non possiamo dire Sia il migliore Che c'è Ma certo Non è inferiore Ai suoi simili AstraZeneca O Johnson & Johnson Ecco Forse Johnson & Johnson È quel vaccino Che si fa In una volta Soltanto E a proposito E a proposito Johnson & Johnson Ecco qua L'altra notizia Sempre dal Resto del Carlino Che anche Johnson & Johnson Americano Ci taglia milioni Di dosi La linea di Biden Il presidente Prima Gli americani All'Italia Promesse 6 milioni e mezzo Di dosi Entro il 3 di aprile Ma dovevano essere 55 Tra marzo e giugno Il presidente Però americano Blinda tutta La produzione Nazionale Nessuna Condivisione Con gli Alleati Alla vigilia Del via libera Da parte Dell'EMA Si scopre Che ci sarebbero Problemi Legati Alla produzione Certamente Gli americani Hanno bisogno Di Tanti Ancora Tante Tante dosi Però Insomma La Johnson & Johnson Ha un po' Ridimensionato L'allarme Confermando L'impegno A fornire 200 milioni Di dosi Nel 2021 Secondo Gli Accordi Però Insomma La Commissione Europea Si è mossa Subito Per scongiurare Intoppi Ma è chiaro Che dietro Questo stop Ngo Si nasconde Anche una Precesa Scelta Politica Americana Ieri Appunto Gli americani Avevano garantito Di proseguire Il lavoro Collettivo Per consentire Di Dare Questi Questi Vaccini Però Insomma Sta di fatto Che quando La produzione Rallenta Poi Ognuno Cerca Di Trattenersi Le dosi E dice Prima siamo noi Poi verranno gli altri Intanto Sempre sui vaccini Guardate queste foto E questa pagina La pagina 4 Del Corriere Adriatico Il quartier generale Irca Di Ancona Dove Il dottor Massimo Di Muzio Dirigente Della unità operativa Di farmacia Clinica Prende in consegna Le dosi Dei vaccini Anticovid Vedete Arrivano scortate Dalla polizia Poi vengono aperti Parliamo Di Pfizer Che va A meno 80 gradi Moderna Che va A meno 20 Gradi Centigradi Centigradi Ed AstraZeneca Invece Che si può ottenere Anche a 6 gradi Insomma Centigradi Lunedì è arrivata Questa fornitura Extra Parliamo di 5.850 Pfizer Invece di 11.000 Vedete Sono quasi La metà Il dottor Di Muzio Dice Moderna Quota 0 L'aspettiamo Ormai A giorni E poi dopo Lì si ricomincia A convocare E a iniettare Questi vaccini Saltamartini Però Dette ai tempi Sarà Un vaccino Di massa Ad aprile La tabella Di marcia Sulla base Delle consegne A marzo Avremo 101.436 Dosi E dunque Soltanto ad aprile Si potrà parlare Di vaccinazione Di massa La nuova Deadline Stilata Slittata Ulteriormente In avanti È stata messa Nero su bianco Dall'assessore Saltamartini Che abbozza Una tabella Di marcia Sulla base Delle consegne Dei farmaci Previste Per il mese Di marzo Devono arrivare Complessivamente 101.000 Vaccini Pfizer e Moderna Fa sapere Ovvero Oltre 25.000 Dosi La settimana Chiaramente Poi queste Bisognerà Iniettarle Avere tutto Il personale Disponibile Avere tutto Una macchina Organizzativa E non Fare come Abbiamo fatto Si è fatto All'inizio Per esempio Alla celletta Pesaro Dove Sembrava Che tutto Potesse andare E filare Liscio Poi alla fine Sono stati bravi Gli operatori A garantire A tutti Il vaccino Però Chiaramente C'è gente Ottantenne Novantenne Ridosso Anche Dei cento anni Che stava lì È stata lì Anche Per qualche Ora Vaccini Anche Nella palestra Dunque Adesso Questa è la notizia Sul resto Del carlino Che dunque Servirà Per alleggerire Un po' Per distribuire Un po' Meglio Le persone Ricci Fa di testa Sua L'Asur Ora È inutile L'assessore Regionale Saltamartini Dice I siti Non aumenteranno Fino a quando Non avremo Una dotazione Maggiore Di siero Come Appena Ho appena Detto Sì Finché Non arriverà Il vaccino È inutile Stare a fare Però Ricci Fa un po' Repubblica Per conto suo Fa regione Per conto suo E quindi Per Pesaro L'evoluzione Sarà tra tre settimane Con i locali interni Al centro commerciale Lì per Rossini È quello che Praticamente Sarà la svolta Adesso la palestra Che tra l'altro Non è neanche stata Autorizzata Ma individuata Soltanto dal comune Servirà poco Insomma Per il resto Bisognerà andare Lì per Rossini Dove c'è invece Questa struttura Ci vorranno Qualche settimana di tempo C'è ora Per attrezzarla E per renderla Operativa Ma quando arriveranno Poi i sieri Allì però Ci sarà veramente Lo spazio Si sarà chiuso Eccetera eccetera E anche al fresco Quando arriverà L'estate Celletta Alla palestra Un altro punto vaccini Ma ci sono due nodi Il sindaco Ricci Ne annuncia L'entrata in funzione Per sabato prossimo Manca però ancora L'autorizzazione Asur E c'è lo scoglio Appunto Del personale Intanto si va Verso la rianimazione L'apertura Della rianimazione 4 Ora A pagina 7 Del resto del Carlino C'è un virgolettato Che mi sento Proprio di Come dire Farvi vedere E di sottolineare Con molta importanza Perché Perché Sono parole Del comandante Della polizia Di Locale Di Ancona Allora Che cosa dice La comandante Troppa gente In giro Bisogna stare a casa Senza un motivo valido Non si può Uscire Anche ieri Tre sanzioni La comandante Della polizia locale Liliana Rovaldi Dice anche io Ho un figlio in Umbria Non lo vedo Da dicembre E allora Sentite che cosa dice Comandante È un'impressione Oppure c'è ancora Tanta gente In giro Chiede Marina Verdenelli Del resto del Carlino La risposta Della comandante È questa Rispetto a prima Quando non avevamo Eravamo ancora In zona rossa No Però Considerando Questa fascia di colore Che impone di stare a casa Sì C'è gente che gira Ma ci sono anche Tante possibilità Per uscire Perché tutti ancora Lavorano O almeno La maggior parte Delle persone I negozi Di certe tipologie Di prodotti Sono aperti Non penso solo Agli alimentari Ma anche ai negozi Per bambini All'edicola Le farmacie Le parafarmacie Tutti quelli compresi In un lungo In un lungo elenco Legato nel numero 23 Del nuovo DPCM In conseguenza Di ciò Cioè In conseguenza Del fatto Che ci sono Tanti comunque Negozi Aperti Questo lungo Elenco Lo dimostra In conseguenza Di ciò C'è Chi va A comprare Ok L'occasione Viene data E quindi La gente Figuriamoci Se resta a casa Si esce Perché si esce C'è la voglia di uscire E quindi si esce Ora Andiamo avanti Sulla Pagina 7 Invece Si pensa già Al prossimo giugno Abbiamo detto Che giugno Dovrebbe finire Questa pandemia Il virus Dovrebbe scomparire Quasi del tutto Così come abbiamo visto Già La scorsa estate Quindi A giugno Che cosa succede A giugno Dovremmo Poter tornare A muoverci Quindi magari Anche farci Qualche vacanza Dal pass vaccinale All'emette Covid free Nel mondo E caccia di turisti Per l'estate La Cina introduce Il certificato verde La Grecia A maggio Riapre agli stranieri Tokyo Blinda le Olimpiadi E solo per gli spettatori Giapponesi Che notoriamente Sono persone Come abbiamo sempre Elogiato Come faccio Sempre Con degli elogi Sui giapponesi Che sono Si danno Delle regole Si auto Si auto Insomma Si mettono Sempre Tutto a puntino Sono attenti A quello che devono fare Insomma Si auto Si danno Delle auto Regolamentazioni Che Li ha salvati In qualche modo Perché il Giappone Il Giappone Sta andando bene Intanto invece Il pronto soccorso Senigallia Regge ancora 12 letti nuovi La situazione migliore Rispetto a Iesi Dove l'ospedale Il collasso I dati lo confermano Scrive il Carlino Andiamo e cambiamo pagina Adesso Storceva 200 euro Al mese Alla nonna Siamo sul Carlino Di Fano Una ragazza Che ha problemi di droga Ha aggredito L'anziana La nonna In un parcheggio Per farsi dare i soldi Altre due storie Di inferno In famiglia Risolte Dalla polizia Di Fano Il servizio A casa Per i disabili Continua anche In zona rossa L'assessore Tinti Calma le ansie Dei genitori I centri diurni Aperti Fino a sabato Prosegue anche L'aiuto Per i non Autosufficienti Le terme di Carignano Peccato Addio Alle terme Nel senso A tutta quella struttura Che un tempo Era un fiore All'occhiello Della città di Fano Perché Perché La proprietà Ha deciso Di non rilanciarle Lorenzo Ferrari Medico di Reggio Emilia Dice Ho parlato Con la nuova proprietà Le terme Sono state comprate Recentemente E questa nuova proprietà Non ha alcuna intenzione Di ripristinarle Ci farà una clinica Estetica La scelta fatta Non la condivido Ma forse Il tempo dirà Che hanno ragione Loro Intanto I cancelli Dice Sottolinea Fa vedere Beatrice Morbidoni Alla guida Del comitato Che si è battuta Per le terme di Carignano I cancelli Sono aperti Le porte Sono state sfondate Quel posto Cioè le vecchie terme di Carignano Sono ormai terra di nessuno Se ci vogliono fare dell'altro Devono chiedere al comune Il cambio di destinazione d'uso Per tutta Per tutta l'area Poi c'è una proposta Che ieri Sempre dal Carlino Ha lanciato Il regista Fanese Leandro Castellani Una casa del cinema Fano L'idea di Castellani In qualche modo Affascina Masseri Il sindaco Poi Marchegiani E Pucci Raccolgono l'appello Dalla Memo Al Sant'Arcangelo Ecco I possibili Musei Mentre Amarotta Amarotta Che era divisa Con il territorio Di Fano E intanto Il sindaco Barbieri Lo vedete qui Qua la foto Simbolo Quella che Hanno scattato Dopo La sentenza E quindi Tutta la festa La festa Per Questa unificazione A Cartoceto Invece Ne abbiamo parlato Anche ieri Nel nostro telegiornale Occhio alla notizia È stato È finito Dell'olio Sull'asfalto Un'auto Si schianta Contro il cancello Successo nel primo pomeriggio Di ieri Lucrezia Abbattuti anche tre pali Della segnaletica E una centralina Del gas E quest'altra storia Invece Che arriva Da Pian del Brusco Da pagina 13 Siamo Ed è raccontata Da Davide Eusebi E da Leonardo Mattioli Ora Infila la mano Nell'albero E pesca un ordigno Momenti di paura Per l'agricoltore Giordano Gagliardi Di Cartoceto Che ritrova Un proiettile Dell'ultima guerra Prelevato poi Dai Carabinieri La pianta Sradicata E poi impiantata Davanti al frantoio Aveva protetto I tedeschi In ritirata Dal fuoco canadese Nel 1944 Nevica ancora Ancora qualche spruzzatina Di neve La sta facendo Nessun ristoro Però E la stagione invernale Ormai Sta andando in archivio I gestori Delle stazioni Del Catria Puntano già Sull'estate Per il rilancio Però Insomma Mentre la neve Continua a cadere Continua a scendere Scende anche il conto corrente Di questi gestori Che fanno fatica Quest'anno è andata davvero Malissimo Pur essendoci la neve Gatto Randaggio Invece fa mobilitare Vigili del fuoco E volontari Soccorso Chiesto dopo una notte Di Miagolì Ininterrotti Sul tetto È successo A San Costanzo Ad Urbino Evasione fiscale Per 370 mila euro Condannato Si tratta di un 45enne Di Tavoleto E poi In Regione Latini Dà un incarico A Vittoriano Solazzi Era entrato nell'Udc L'estate scorsa Ora il Presidente del Consiglio Lo nomina Nel suo gabinetto Via la terreno adriatico Quindi arrivano i campioni Del ciclismo Le tappe nelle Marche Domenica 14 marzo Poi lunedì 15 E martedì 16 marzo È tutto Grazie per essere stati con noi Vi do appuntamento stasera Alle 20.30 Con il telegiornale Occhio alla Notizia Arrivederci